Ciao a tutte, in questo video tutorial vi mostro come lavorare questo modello di scialle a ventaglietti e con alcune zone traforate, quindi non completamente chiuso, è un modello facile da realizzare, si lavora in due passaggi e poi l'ho trovato molto carino perché piuttosto che svilupparsi in altezza si allarga lateralmente in più in modo veloce. Questo che vedete è una parte di scialle che sto realizzando con un filato abbastanza grosso e che sto lavorando con un uncinetto numero 7. voglio farvi vedere anche questo stesso modello però realizzato con dei filati diversi e più sottili per farvi render conto di come alla fine possa venire fuori. Quindi abbiamo questo campione che è realizzato con un filato più sottile in mistolana e che ho lavorato con un uncinetto tre e mezzo. Vedete il disegno rimane sempre ben definito come lo stesso sono gli spazi aperti. invece questo in bordeaux è lavorato con un filato effetto tipo cotone più sottile che ho sempre lavorato con l'uncinetto con l'uncinetto tre e mezzo però vista la diversità del materiale ha una consistenza diciamo un po' leggermente più rigida ma sempre con un effetto bellissimo ecco qua quindi questo per dirvi che potete utilizzare qualsiasi tipo di filato per fare questo tipo di scialle sta a voi scegliere il filato se è lana cotone lana grossa lana sottile e poi fare delle prove con gli uncinetti per vedere quale numero preferiate utilizzare dunque a questo punto io direi di passare alla spiegazione per il nostro campione per il nostro campione io adesso utilizzo un filato molto morbido che lavorerò con un uncinetto numero cinque iniziamo con un anellino magico attorcigliando il filo intorno alle nostre dita poi con l'uncinetto prendiamo il capo di filato che andremo a lavorare e facciamo quattro catenelle queste quattro catenelle non rappresentano la prima maglia della lavorazione ma è soltanto l'inizio del giro ad ogni modo una volta lavorate le nostre quattro catenelle facciamo quattro maglie alte doppie quindi due volte il gettato sull'uncinetto lavoriamo la prima con uno due e tre passaggi la seconda maglia alta doppia o maglia altissima la terza e lavoriamo la quarta maglia alta doppia ecco sempre passando intorno ai fili dell'anellino in questo modo uno due tre quattro maglie alte doppie due catenelle una e due e poi dall'altro lato lavoriamo quattro maglie alte doppie più una che serve per la parte finale grazie a tutti grazie a tutti Ecco qua, queste sono le quattro maglie del motivo, diciamo di questo motivo a ventaglio gigante e adesso facciamo l'ultima maglia alta doppia a conclusione di questo primo giro. Ecco qua, abbiamo un grande ventaglio come potete vedere, a questo punto possiamo prendere il filo, la codina libera e tirarla in modo da chiudere, anche non completamente, la nostra parte iniziale. Per passare al giro successivo lavoriamo 7 catenelle. Voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta prendendola nello spazio sopra, diciamo, l'ultima maglia alta doppia del giro precedente. Quindi questa è la maglia alta doppia che abbiamo lavorato nel giro precedente, le 7 catenelle per voltare, la maglia alta la lavoriamo sulla maglia alta doppia che troviamo proprio al di sotto. e abbiamo un punto a V. Ora lavoriamo 5 catenelle e le 2 catenelle che dividono il grande ventaglio intorno lavoriamo una maglia bassa. di nuovo 5 catenelle e ora andiamo a lavorare in testa alle 4 catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi facciamo una maglia alta andiamo a infilare l'uncinetto nella quarta catenella a partire dal basso 1, 2, 3 e 4 e lavoriamo questa maglia alta facciamo 3 catenelle e una maglia alta doppia per terminare il giro sempre andandola a prendere, a fissare nel punto in cui abbiamo fissato la maglia alta che abbiamo appena fatto ed anche in questo caso abbiamo un punto a V finale quindi ricapitolando quello iniziale in cui abbiamo fatto 7 catenelle e una maglia alta in pratica abbiamo le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia poi le 3 catenelle poi le 3 catenelle e la maglia alta normale e questo è il secondo giro ora da questo momento in poi sarà tutto molto semplice perché dovremmo ripetere un giro con i grandi ventagli e un giro con i punti a V quindi andiamo avanti e vi faccio vedere come lavoreremo il terzo giro in questo caso facciamo 4 catenelle 1, 2, 3 e 4 e voltiamo facciamo nel punto a V sottostante un grande ventaglio quindi vale a dire 4 maglie alte doppie 2 catenelle 4 maglie alte doppie iniziamo ecco qua la prima parte del grande ventaglio quindi 1, 2, 3, 4 maglie alte doppie facciamo 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte doppie sempre nello stesso spazio abbiamo terminato il nostro grande ventaglio ora ci troviamo a lavorare in questo punto ossia dove abbiamo fatto la maglia bassa al centro del grande ventaglio del primo giro dobbiamo semplicemente fare una maglia bassa prima della maglia bassa sottostante poi 3 catenelle e di nuovo subito dopo la maglia bassa sottostante una nuova maglia bassa quindi sulla maglia bassa abbiamo 2 maglie basse laterali e 3 catenelle che formeranno questo spazio ci troviamo ora di nuovo alla presenza di un punto a V del giro precedente lavoriamo subito un grande ventaglio quindi 4 maglie alte doppie 2 catenelle per terminare 4 maglie alte doppie più 1 a conclusione del giro più 1 a conclusione del giro ora continuiamo lavorando la parte con i punti a V quindi di nuovo 7 catenelle 5 catenelle voltiamo una maglia alta da prendere alla base quindi sulla maglia alta doppia precedente 5 catenelle una maglia bassa intorno alle 2 catenelle centrali del grande ventaglio di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle e ora lavoriamo il nostro punto a V proprio nello spazio formato dalle 3 catenelle del giro sottostante quindi facciamo una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta sempre intorno alle stesse catenelle ecco qua continuiamo con 5 catenelle ci troviamo ora al centro del grande ventaglio e lavoriamo una maglia bassa di nuovo 5 catenelle e arriviamo alla fine del giro in cui faremo in questo punto ossia la catenella di testa delle 4 del giro sottostante lavoreremo una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta doppia per terminare sempre prendendole nella stessa maglia 1 2 e 3 passaggi ecco qua avete visto com'è semplice questi sono i due giri da ripetere fino a quando non raggiungete la grandezza che più vi piace del vostro scialle sono questi i giri da ripetere per realizzare questo scialle in maniera semplice e veloce per quanto riguarda il bordo di rifinitura vorrei farvi vedere come realizzarlo terminiamo il nostro scialle con il giro a grandi ventagli arrivata alla fine del giro facciamo in questo modo riprendiamo l'ultimo ventaglio del giro che abbiamo lavorato e aggiungiamo due catenelle in questo modo 1 e 2 giriamo il lavoro sul lato dello scialle e sempre in questo spazio lavoriamo quattro maglie alte doppie ora ci abbassiamo in questa catenella questo punto che è l'ultimo punto il quinto del grande ventaglio del giro e facciamo una maglia bassa in questo modo ora in questo spazio facciamo nuovamente un grande ventaglio che è un'ultimo due catenelle due catenelle e di nuovo quattro maglie alte doppie ecco qua una maglia bassa poi subito dopo di nuovo un grande ventaglio nello spazio successivo e dobbiamo ripetere così per tutto il lato per tutto il lato ecco qua vedete abbiamo lavorato i nostri ventagli giganti su lungo il lato dritto dello scialle e siamo arrivati alla punta ora prima del nuovo ventaglio che dovremo fare in punta facciamo la nostra maglia bassa intorno alla maglia alta doppia del del giro con i ventagli quindi in questo modo dopodiché non dobbiamo fare altro che puntare l'uncinetto all'interno del dell'anellino che abbiamo chiuso l'anellino magico e lavoriamo il nostro ventaglio gigante in questo punto con i voi che vedete 2 catenelle e altri 4 maglie alte doppie. Ecco fatto, stringiamo di nuovo l'anellino magico se nel frattempo si è allargato e fermiamo con una maglia bassa, a questo punto ripetiamo la lavorazione come abbiamo fatto nell'altro lato, quindi un ventaglio gigante negli spazi grandi e fermiamo con una maglia bassa nelle barrette laterali dei ventagli che abbiamo lavorato in origine, fino ad arrivare al penultimo ventaglio, poi vi faccio vedere come terminare il nostro lavoro. Ecco qua, abbiamo lavorato anche l'altro lato, ora per arrivare alla conclusione facciamo in questo modo, allora questo è l'ultimo grande ventaglio che ho lavorato nello spazio. e andiamo a lavorare in questo ultimo spazio grande 4 maglie alte doppie. una, due, tre e quattro. a questo punto facciamo due catenelle e con una maglia bassissima ci andiamo ad unire alla prima maglia della parte di ventaglio che abbiamo proprio in successione. ecco qua, in questo modo abbiamo completato tutto il bordo del nostro scialle. non resta che tagliare il filo, bloccare e nascondere le codine. eccolo qua, il nostro campioncino che vi mostra come sarà il vostro scialle una volta terminato. Spero che questo modello vi sia piaciuto, non posso far altro che augurarvi un buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao a tutte da Lilla Ciao a tutti! Ciao a tutti!